Gianmarco Centinaio, come commenta la Lega questi sciopri che sono in corso alla RAI? Ma che ancora una volta questo governo per accontentare i capricci del Presidente del Consiglio scontenta tutta una serie di lavoratori tra cui i giornalisti RAI. In questo momento in RAI c'è una vera e propria rivoluzione perché il Presidente del Consiglio ha deciso di tagliare alla televisione di Stato 150 milioni di euro che arrivano dal cosiddetto canone. E quindi che cosa sta succedendo? Che il Consiglio d'amministrazione della RAI ha deciso di, nell'ambito di questo taglio, ha deciso di fare una serie di razionalizzazioni di costi tra cui per esempio il taglio delle sedi decentrate, il taglio delle fiction e tra cui la vendita di una parte di RAIWay che non è nient'altro che il capitale vero e proprio della RAI quindi le antenne. E quindi cosa succede? Succede che i giornalisti e i dipendenti della RAI in questo momento si vedono depredati da quello che è la loro professionalità e di conseguenza hanno deciso di scioperare. Ancora una volta, come dicevo, ancora una volta si scontentano dei lavoratori per andare incontro a quelle che sono le promesse del Presidente del Consiglio. Da parte nostra c'è estrema preoccupazione, in particolar modo per quanto riguarda le sedi decentrate, perché lo riteniamo un capitale. Allora se bisogna fare un po' di razionalizzazione siamo d'accordo, vediamo di fare un contenimento dei costi, però di non toccare quella parte di azienda di Stato, cioè quella parte di RAI che permette ai cittadini padani di poter riuscire a sentire almeno quelle che sono le notizie locali. tagliando le sedi decentrate si taglierebbe praticamente tutta l'informazione locale.